Io sono Fiorenzo Ciavatta, rappresento insieme al mio socio la seconda generazione alla guida della Titanmec S.P.A. La Titanmec nasce nel 1979 come azienda di lavorazione lamiere e carpenteria leggera per conto terzi. Serviamo principalmente il settore della costruzione di macchinari che possono essere macchine per il packaging, macchine per la lavorazione del legno, macchine per la lavorazione del marmo, settore alimentare. Lavoriamo principalmente come materiali acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio inossidabile, alluminio e rame anche. I spessori che lavoriamo vanno da il millimetro fino al 15 millimetri. Ci siamo dotati recentemente di un nuovo impianto di taglio laser Mazak del tipo fibra da 6 kilowatt. Questo ci ha permesso di raggiungere con più facilità il nostro obiettivo appunto di essere maggiormente flessibili. Il fatto di avere una macchina altamente flessibile con dei tempi di attrezzaggio appunto ridotti al minimo ci permette di soddisfare queste esigenze di passare da un materiale all'altro o comunque di fare anche pezzi singoli senza pregiudicare diciamo la programmazione vera e propria del lavoro che è un punto basilare per la sostenibilità dell'attività. Questa macchina permette con grande facilità di interrompere il flusso produttivo programmato, realizzare il pezzo diciamo urgente per poi riprendere con la produzione programmata. Questa nuova tecnologia laser fibra ha tra i vantaggi oltre alla flessibilità anche il consumo ridotto di energia elettrica. Con Mazak abbiamo un rapporto che dura ormai da 25 anni. Questo è il nostro quarto impianto, acquistiamo e Mazak secondo noi è un costruttore molto attento all'innovazione tecnologica e ci ha permesso negli anni di essere sempre competitivi sul mercato. La cosa che ci ha colpito di questo nuovo impianto è l'elevata velocità di riattrezzaggio e quindi la possibilità di lavorare in tempi rapidi materiali diversi e spessori diversi. Essendo la seconda generazione tra i nostri obiettivi oltre a quello di consolidare l'azienda, quello di continuare ad investire per essere sempre al passo con i tempi e per fare questo abbiamo necessità di partner quali Mazak molto attenti alle esigenze del cliente e in grado di fornire un approccio consulenziale.